Ciao a tutti da Vittorio, molti su Instagram mi hanno scritto di Samarsic. Prima di continuare, grazie perché siamo arrivati a mille follower su Instagram, seguitemi anche lì, mi fa piacere, poi mi potete scrivere di solito se faccio un tempo rispondo a tutti, per cui seguitemi anche su Instagram. Comunque, molti mi hanno chiesto che ne penso di Samarsic, che novità ci sono di Samarsic. Allora, la Lazio, come ha detto Alfredo Pedullà, ha fatto un sondaggio per il giocatore. Sostanzialmente, nelle ultime settimane, visto che la trattativa per Stengs, la trattativa per Noslin stava andando un po' a rilento, la Lazio ha ricevuto delle risposte non fantastiche, perché Feyenoord prima voleva inserire Isakzen nella trattativa per Stengs e la Lazio non è così convinta di cedere Isakzen. Noslin, in Verona, ha sparato altissimo, un prezzo che secondo me non vale il giocatore, e quindi adesso si sta trattando, provando ad abbassare il prezzo inserendo ACPA. La Lazio ha detto, va bene, cerchiamo soluzioni alternative e una delle soluzioni uscite fuori è quella di Samarsic, giocatore dell'Udinese che, lo scorso anno ve lo ricorderete, era praticamente fatta per il suo passaggio all'Inter. Poi il padre si mese in mezzo e la trattativa saltò, sembrava dovesse andare la Juve, alla fine è rimasto all'Udinese. Quindi parliamo di un giocatore che è pronto secondo me per il grande balzo, se lo voleva l'Inter, se lo voleva la Juventus, è il segnale che il giocatore è di qualità ed è di un livello importante. Adesso la Juve, lo sapete, sta su altri profili, l'Inter anche ha coperto quel ruolo e comunque al momento sta sondando altre soluzioni, e quindi la Lazio ha sentito l'Udinese per vedere la valutazione del giocatore. L'Udinese vorrebbe 20-25 milioni di euro per Samarsic, un prezzo che al momento sembra impossibile, che al momento nessuna squadra si è fatta avanti offrendo quelle cifre. La Lazio ha registrato la volontà dell'Udinese, l'Udinese lo vuole vendere, quest'anno vuole veramente far cassa. La Lazio avrebbe proposto una cifra molto inferiore a quei 25 milioni di euro ed è convinta che potrebbe strappare il giocatore a quella cifra. Ma Samarsic è solo un sondaggio. La Lazio non ha affondato il colpo perché, verosimilmente, prima si vuole decidere Greenwood, poi probabilmente decidere fra Greenwood e Stengs dove andare a colpire, eventualmente si potrebbe affondare il colpo per Samarsic. Samarsic che può sicuramente giocare trequartista nel 4-2-3-1 di Baroni, ma potrebbe anche giocare interno di centrocampo, quindi arretrare un po' il proprio baricentro. E quindi è una soluzione sicuramente interessante per la Lazio, ma la Lazio, lo stiamo notando nella serie di trequartisti, sta sondando vari profili per poi scegliere il migliore. Al momento la Lazio sta provando in questi giorni a vedere se l'affare Greenwood è possibile, se si può aprire una trattativa, se ci sono i margini per trovare un accordo con Manchester United. Una volta chiusa o abbandonata quella pista, la Lazio andrà sugli altri profili. C'è Stengs, c'è Samarsic. Stengs, la Lazio, ripeto, non vuole mettere Isaksen, lo vuole tenere, e quindi ha risposto al Feyenoord di no per lo scambio. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 12 milioni. La Lazio ha messo un attimo un stand-by con la situazione perché, come vi ho detto stamattina, se arriva Greenwood non ne arriva più Stengs o Samarsic. Se Greenwood salta, allora la Lazio può andare su altri profili. A me Samarsic piace perché può giocare in ruoli differenti, perché conosce già la serie A, perché poi porta quella fisicità che alla Lazio senza Milinkovic è venuta a mancare. E questo è un altro dato importante. Stengs però è giocatore di esperienza internazionale, ha già giocato la Champions, e quindi diciamo che sono due profili buoni, due profili accettabili. Ovvio che se non dovesse arrivare Stengs né Samarsic e ci troviamo con Chaona titolare, trequartista, beh, le cose cambiano decisamente tanto. Non sarebbe un grande mercato. Chaona secondo me viene per fare la riserva, per crescere alle spalle di un trequartista forte, e poi ovviamente di giocare qualche partita, di entrare nella ripresa, eccetera, di fare esperienza. Ma Chaona per me quest'anno deve fare la riserva. Di Saxena a destra, del trequartista centrale al centro, quello può variare perché può giocare in varie posizioni, però secondo me Chaona deve fare la riserva. Il titolare deve essere Stengs, Samarsic o Grimmud. Questi tre sono i nomi per il trequartista titolare della Lazio. Ve l'ho già detto, io andrei su Grimmud, ma è sicuramente l'operazione più difficile. Quella di Stengs è praticamente definita, ma attenzione anche a Samarsic, che può piacere e si aspetta di vedere se l'Udinese abbasserà le pretese. Piccolo risulto sulla situazione del trequartista, tu che ne dici? Scrivetevi un commento qua sotto e noi ci ritroviamo domani mattina alle 8 con un altro video. Grazie ragazzi.